Come vedete dal titolo di questo seminario non parleremo molto di metaverso né di metagiuslavorismo, parleremo invece di cose molto concrete, in particolare di uno strumento che Federalberghi, insieme a Renaia e agli ITS Turismo, ha realizzato per avvicinare il mondo del lavoro con il mondo dell'istruzione. Per questo sono qui con noi il professor Valentini, che è il presidente di Renaia, cioè la rete nazionale degli istituti alberghieri. Sono collegati con noi e presto interverranno il dottor Mele, Alessandro Mele, che è il coordinatore nazionale degli ITS sul turismo, e Matteo Colombo di ADAPT, un ricercatore universitario che ci ha aiutato soprattutto a identificare la parte normativa utile per parlare appunto di apprendistato e istruzione professionale nel turismo. Io, avendo tempo limitato a nostra disposizione ed avendo tante cose da dirvi, passerei la parola ad Angelo Candido, che è il capo servizio sindacale di Federalberghi, che ci illustrerà il senso di questo nostro incontro. Prego, Angelo. Grazie, buonasera. Le presentazioni sono state fatte, il ghiaccio è stato rotto. Abbiamo deciso di parlare, di utilizzare BTO per parlare di un aspetto che abbiamo valutato essere estremamente importante. A ben vedere, stamattina anche in un contesto, come diceva Andrea, molto votato, evocato alla tecnologia, il metaverso viene esplicitamente richiamato nel titolo, diciamo così, nel claim dell'iniziativa, molti dei panel sono stati dedicati oppure hanno avuto come punto di caduta questa riflessione comune che ormai è diventata molto vicina alla nostra realtà quotidiana, non solo di imprenditori alberghieri, non solo i lavoratori, non solo i studenti, e cioè nel settore manca del personale. Tuttavia questa, diciamo, considerazione che è ormai qualcosa di ampiamente condiviso, a nostro avviso, a mio avviso, nasconde, è la parte, diciamo così, che fuoriesce di un iceberg che per nove decimi sta sotto questa, questo è un fenomeno che nasconde qualcosa di più grande e questo qualcosa di più grande è stato ovviamente molto esaminato dagli interventi che ci sono stati nel corso della mattinata nel primo pomeriggio, ma a nostro avviso ha un punto di caduta estremamente rilevante che è quello del deficit di conoscenze all'interno del nostro settore. Cioè, se il settore è caratterizzato da uno stock sia di capitale, sia di risorse, sia di tecnologie, è caratterizzato anche da uno stock, da un capitale di competenze che sono portate nel settore, dai lavoratori, da quelli che ci sono attualmente e da quelli che ci saranno e che deve essere depurato da coloro i quali, depurato, un stock di capitale ovviamente, non il settore, dal flusso, dal flusso di persone che vanno via dal settore e che andando via dal settore non ci privano solo dalla loro presenza fisica, ma fanno venire meno quelle competenze, quelle conoscenze, quello stock di know-how che rappresenta in definitiva il cuore pulsante, il motore dell'economia turistica. Per ovviare a questo problema, noi abbiamo pensato all'iniziativa che coinvolge tre soggetti, federalberghi ovviamente, l'associazione maggiormente rappresentativa delle strutture turistico-alberghiere italiane, turistico-ricettive italiane, ma anche la rete degli istituti alberghieri cui faceva riferimento prima Andrea Serra e la rete degli ETS che sono gli istituti tecnologici superiori, che sono istituti di istruzione terziaria che si occupa nello specifico del turismo. Qual è la considerazione che ci ha mosso per creare questo partenariato? L'abbiamo presa per esempio da un documento della Commissione europea che si chiama che individua un percorso di transizione per il turismo, transizione verso un'economia turistica più sostenibile, più moderna, più inclusiva, più verde, che individua nella carenza di personale e di conoscenze una delle caratteristiche dell'immediato futuro del nostro settore e al tema 21 individua un'azione che le parti sociali e in ogni caso gli stakeholder del settore devono mettere, devono porre in essere per mettere, porre rimedio a questo, a questa caratteristica, a questa deriva che è quella di integrarsi con le rappresentanze del mondo dell'istruzione, secondaria e terziaria. E siccome, guarda caso, noi con queste rappresentanze abbiamo dei rapporti, mi soffermerò tra un minuto per illustrarveli, allora abbiamo pensato di realizzare uno schema per l'utilizzo di uno strumento abbastanza conosciuto, sempre evocato, soprattutto per quanto riguarda l'approccio dei giovani al mercato del lavoro e del turismo, ma molto spesso non utilizzato, che è l'apprendistato. E quale apprendistato in particolare? Quell'apprendistato duale, cioè di alternanza, se mi consentite il termine non perfettamente tecnico, ma sarà molto più tecnico Matteo Colombo dopo di me, che permette sia di fare esperienza dell'istituto scolastico al giovane, sia di fare esperienza concreta dell'azienda, creando un contratto di causa mista che effettivamente è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro. Faccio un passo indietro e vi dico che i soggetti di questa intesa, di questo partenariato, sono, come vi dicevamo, federalberghi, che più o meno, credo, tutti conoscono come organizzazione di categoria degli albergatori italiani, di Renaia, oggi rappresentata dal suo presidente nazionale Luigi Valentini, impresi di Luigi Valentini, e della rete TS Turismo, rappresentata in collegamento, come vi diceva Andrea Serra, da Alessandro Mele. Allora, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo creare un ponte tra sistema dell'istruzione e mondo dell'impresa. In questi anni abbiamo lavorato, abbiamo messo in campo come federalberghi numerose iniziative per cercare di creare questo link, questo legame, per evitare quello che si chiama non solo lo skill mismatch, cioè la differenza di competenze, anzi di abilità più che di competenze, ma anche quel differente passo che unisce, che non unisce, meglio, le esperienze post diploma dei lavoratori e degli studenti rispetto al mondo dell'impresa. E per unire questi due mondi che potrebbero sembrare separati, lo strumento è quello dell'apprendistato. Lo strumento che ci viene dato è uno strumento che può essere declinato in due, secondo due tipologie. Uno, un apprendistato di primo livello che è dedicato agli studenti eh degli istituti alberghieri. Un apprendistato di terzo livello di alta formazione che è dedicato agli studenti e gli ITS. Gli ITS sono formazione terziaria, anzi più correttamente formazione terziaria non universitaria. Così come quella degli alberghieri anche a storia degli ITS, ma ce ne parlerà eh Alessandro Mele, è una storia di un grande successo, sicuramente piccolo, ancora piccolo nei numeri, ma significativo nell'efficacia, nell'efficienza, nell'efficacia del proporre l'inserimento di nuove persone, di talenti, si diceva prima, all'interno delle imprese turistiche. E più che l'inserimento di talenti a questo punto, come dicevo all'inizio, è assicurare capitale di conoscenza tecnologica e non solo alle imprese alberghiere, per garantire competitività del sistema. Concretamente noi andremo a a sottoscrivere probabilmente alla fine di questa nostra riunione eh un accordo con Renaia e lo sottoscriveremo a breve anche con i colleghi dell'ITS che prevede uno schema di protocollo da utilizzare da parte di tutti gli istituti alberghieri d'Italia, aderenti alla rete, di tutte le imprese aderenti al sistema federalberghi per stimolare un protocollo tra le imprese e gli istituti alberghieri, uno schema di apprendistato di primo livello e uno schema di piano formativo individuale. Tutto questo studiato e redatto in collaborazione e qui vengo al al terzo soggetto che non ho menzionato fino adesso che è ADAPT eh studiato con i colleghi di ADAPT, l'associazione per lo studio del diritto del lavoro e delle azioni sindacali fondata eh dal professor Marco Piaggio e della quale federalberghi fa parte sin dal esordio della sua fondazione e identica cosa faremo come vi dicevo con gli eh con la rete degli ITS. Questo è diciamo così il il kick off per quanto mi riguarda il primo intervento per capire qual è l'iniziativa che abbiamo messo in campo. Adesso passo la parola, restituisco la parola al nostro bravo moderatore e mi riservo poi di intervenire se ce ne sarà necessità. Io ringrazio per il bravo e passo immediatamente la parola a ehm al dottor ehm Matteo Colombo ricercatore di ADAPT che eh ci illustrerà ehm la normativa italiana in tema di apprendistato di primo livello e di secondo livello. Buonasera, condivido immediatamente le slide realizzate, dovrebbero vedersi, spero. Sì, si vedono. Perfetto. Allora, nuovamente buonasera a tutti, anch'io sono già stato presentato e ringrazio per per l'invito a questo evento che è anche l'occasione per tornare a parlare di un tema come quello dell'apprendistato che in realtà eh a livello soprattutto di mh esperienze diffuse a livello nazionale ancora è ancora poco conosciuto. Cerchiamo quindi prima di tutto di capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che è finalizzato la formazione, l'occupazione dei giovani. Qua sottolino brevemente tre cose. È un contratto di lavoro quindi per esempio è molto diverso da quello che è un tirocino extracurricolare che attualmente è la forma con cui più frequentemente i giovani realizzano il loro primo inserimento nel mercato del lavoro. Qua invece abbiamo a che fare con un contratto con quindi anche tutto un insieme di eh tutele, meccanismi di protezione che il tirocino extracurricolare eh ma anche quello curricolare eh non prevedono. È un contratto a tempo indeterminato eh in realtà è un contratto eh cosiddetto bifasico nel senso che c'è una prima fase di apprendistato vero e proprio che coincide per esempio nel caso apprendistato duale con eh la partecipazione a un percorso di studi, di formazione scolastico, universitario o presso un ITS al termine del quale al termine di questa prima fase di apprendistato datore di lavoro o apprendista possono recedere liberamente dal contratto. Se nessuno di due esercita questa clausola, i sensi dell'articolo duemila e cento di otto del codice civile, il contratto prosegue come normale contratto eh di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E poi è l'unico contratto italiano che è finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Questi elementi quindi che quadro ci riconsegnano? Ci riconsegnano il quadro di un contratto che è un certo tipo di tutele che ha una finalità chiara, quello di costruire professionalità, di costruire quelle conoscenze, quel capitale umano di cui parlava anche Angelo, a partire dall'integrazione tra formazione e lavoro. Attraverso però tipologie differenti che sono state già parzialmente evocate. Sono tre queste tipologie, l'apprendistato di primo livello che è funzionale all'ottenimento di un titolo di studi secondario o superiore, ad esempio gli istituti alberghieri, quindi il diploma corrispondente, un apprendistato professionalizzante che invece non porta nessun titolo di studi, porta solamente all'ottenimento di una qualificazione valida ai fini contrattuali e un apprendistato di alta formazione e ricerca o di terzo livello che permette il conseguimento di titoli di studi terziari, tra cui ad esempio quelli degli istituti tecnologici superiori. Quindi i grandi protagonisti di oggi, i grandi protagonisti che Federalberghi con i suoi partner vuole promuovere sono soprattutto l'apprendistato di primo e terzo livello, che la normativa ci dice che integrano organicamente in un sistema duale formazione e lavoro. L'idea infatti non è quella di far fare un periodo di stage ai ragazzi in azienda. L'idea invece è che l'azienda concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi del percorso grazie al suo valore formativo. Il tema quindi non è semplicemente fargli vedere un po' il mondo del lavoro com'è in pratica, ma concorrere attivamente alla costruzione di competenze professionalità. Per esempio, in un apprendistato di terzo livello finalizzato a conseguimento del diploma ITS, l'azienda non si limita semplicemente a far svolgere all'apprendista delle attività più o meno pratiche, più o meno orientative, ma concorre a raggiungimento, a far emergere, a formare quelle competenze che servono a conseguimento del diploma ITS. Quindi l'impresa è soggetto formativo attivo a pari livello della istituzione formativa. Ora, l'apprendistato di primo e terzo livello così presentati sembrano degli strumenti accattivanti, sembrano degli strumenti in grado di rispondere a tante delle difficoltà che sono già state evocate, dallo skills mismatch alla promozione del capitale umano di un settore di un territorio. La realtà però è un po' diversa. La realtà è quella di questa slide. È una slide che mostra l'assoluto predominio dell'apprendistato professionalizzante o di secondo livello rispetto alle altre tipologie di apprendistato. Fin dalla legge Biagi, decreto legislativo 276 del 2003, che ha introdotto queste forme di apprendistato duale, il legislatore ha sempre insistito sulla sua promozione e spesso in convegni si è ripetuto l'importanza di uno strumento come questo. I dati però parlano chiaro. Le più recenti rilevazioni condotte dall'INAP ci dicono che praticamente il 98% degli apprendisti in Italia è di tipo professionalizzante, cioè non del tipo che interessa noi oggi, di cui stiamo parlando noi oggi. Di apprendistati di primo livello ce ne sono circa 10.000 in Italia. Di apprendistati di terzo livello invece ce ne sono circa 1.000. Numeri quindi molto contenuti che da una parte potrebbero scoraggiarci e dirci, farci dire questi contratti non funzionano. In realtà però possono anche essere visti un altro punto di vista, cioè a partire dall'opportunità di sfruttare questi contratti che sono ancora così poco diffusi a livello nazionale. Attualmente il sistema duale italiano, cioè l'apprendistato di primo e terzo livello, sconta una serie di limiti. Sicuramente da tanti operatori del mercato del lavoro per esempio è poco conosciuto. Spesso anche le aziende non lo conoscono bene o lo confondono con l'apprendistato di secondo livello, professionalizzante, che però è completamente diverso perché un conto è assumere un giovane mentre è iscritto a un percorso di studi e prevedere un'alternanza tra giorni che il ragazzo va a scuola o all'ITS e giorni che viene al lavoro e un apprendistato professionalizzante dove invece è un lavoratore e basta il nostro dipendente. Quindi c'è confusione e c'è poca conoscenza. Ci sono però soprattutto limiti culturali che fanno sì che scuola e mondo lavoro spesso parlino ancora lingue diverse. Un'iniziativa come quella di stasera invece ci suggerisce come lavorare per costruire una grammatica che faccia dialogare questi due mondi. Sicuramente in Italia è un caso unico a livello europeo. Non c'è un'istituzione che presiede l'apprendistato. Se un'azienda ha dei dubbi a proposito dell'apprendistato, non c'è un'istituzione un ente tra gli altri che riesce per esempio a intervenire prontamente. Penso alle Camere di Commercio in Germania che anche oggi hanno un ruolo decisivo. Ci sono sicuramente degli oneri burocratici, delle difficoltà relative alla progettazione formativa che non possono essere colmati dai soli incentivi economici. Andando verso le conclusioni. Se noi pensiamo l'apprendistato semplicemente a partire da il bilanciamento degli interessi delle parti in gioco, a partire dalla sua possibilità di abbattere il costo del lavoro come semplice quindi contratto, ho sintetizzato in questa slide, i numeri rimarranno quelli che abbiamo visto nella slide precedente. Costruire invece l'apprendistato e l'apprendistato duale invece in particolare come sistema significa invece ripensare completamente l'istituto non invocando nuove norme. Ne abbiamo avuto tre grandi riforme negli ultimi anni, non hanno cambiato le quote che vi ho mostrato. Non invocando nuovi incentivi. Certo possono essere utili ma non sono sufficienti. dove lavorare allora? Come lavorare per promuovere la costruzione di un apprendistato come sistema? Sicuramente, e questo è il segreto anche di paesi come Germania e Svizzera, promuovere un rinnovato protagonismo delle parti sociali. Nel senso che le parti sociali e la contrattazione collettiva in particolare hanno ampie deleghe alla regolamentazione dell'istituto riconosciuto dal legislatore. Deleghe che non si limitano semplicemente a fissare una durata massima del contratto, ma anche per esempio prevedere un aggiornamento dei profili professionali o iniziative come quella di cui stiamo parlando. Iniziative a partire dalla quale nascono collaborazioni tra rappresentanza, imprese, enti formativi per la costruzione di questi percorsi. Quindi, in questo senso, favorire anche il dialogo tra strumenti e sistemi formativi, anche mettendo a disposizione strumenti come quelli ricordati da Angelo prima. C'è proprio quindi un lavoro culturale da fare prima di tutto. Certo, è importante conoscere la normativa ed è importante che essa sia il più semplice e accessibile possibile, così come sicuramente importanti sono gli incentivi economici messi a disposizione. Ma la sfida dell'apprendistato duale prima di tutto è una sfida culturale. Credere nell'integrazione tra formazione e lavoro tramite questo specifico contratto come leva per promuovere la competitività delle imprese, dei territori e l'occupabilità dei giovani non solo. Nel momento in cui, anche nell'esperienza italiana, si comincia a scommettere su questo tipo di strumento quale canale proprio per la costruzione delle nuove professionalità richieste, per esempio, dalla transizione verde digitale, allora sarà possibile anche coglierne tutte le opportunità. In questo senso, concludo, la logica sistemica che ho provato a descrivere e che, a mio parere, è ben rappresentata dall'esempio di cui stiamo parlando oggi, dal caso di cui stiamo parlando oggi, promosso da Federalberghi, si basa quindi su una rinnovata partecipazione, collaborazione e integrazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Questo è il primo step necessario per far sì che azioni come questa possano davvero cambiare, se non il settore in quanto tale, comunque cambiare la logica con cui si approcciano questi due mondi e costruire una nuova grammatica per favorire il capitale umano e lo sviluppo delle imprese alberghiere e non solo. Grazie a tutti. Grazie mille a Matteo Colombo, lo ringrazio perché oltre ad averci dato, diciamo così, restituito un quadro giuridico, ci ha fornito anche una mappa concettuale, culturale, che è utile orientarsi su questi due importanti strumenti del mercato del lavoro e a questo proposito chiederei a Alessandro Mele, che è coordinatore appunto degli ITS sul turismo, qual è, io so qual è l'importanza, perché firmono questo protocollo con Federalberghi, ma vorrei che lo dicesse anche a tutti noi, l'importanza dell'apprendistato di terzo livello per quanto riguarda gli ITS e quindi questa partnership con Federalberghi. Grazie di questo invito, mi spiace di non essere lì presente con voi, ma provvederemo in settimana, spero, a concludere anche la firma formale di questo accordo. Un accordo che riteniamo sia particolarmente importante per non solo la rete del turismo e gli alberghi, ma anche per il sistema ITS e la formazione dei giovani e un cambio culturale. Diceva prima Angelo Candido che manca il personale, non manca solo, è della punta di un iceberg, siamo di fronte a un momento di transizione e cambiamento profondissimo, più che quella digitale e quella ecologica, la Commissione Europea l'ha chiamata con la parola inclusione, l'idea è la disgregazione sociale che stiamo vivendo, è una disgregazione sociale che ci chiede un cambiamento, un cambiamento culturale, un cambiamento di approccio. Oggi voglio condividere con voi questa forte dichiarazione del psicanalista Righetti che a proposito di salute mentale ci ricorda come l'idea della massimizzazione del profitto ci ha portato decisamente fuori strada. Abbiamo preso una direzione che va verso il baratro, un sistema che è radicalmente da riformare. Poi diciamo una parola anche su da dove ricominciare. Dice Righetti, le istituzioni della follia sono oggi l'economia, la finanza e la ragione soggettiva del massimo profitto, cioè il profitto come scopo. La distruzione finale dell'ambiente è un frutto non previsto e per questo poco riconosciuto della finanza e dei consumi imposti, della minacciata e usata violenza delle armi, della coazione alla crescita, alla sicurezza, alla sostenibilità, alla inclusione. Tutte parole senza aggettivazione di senso, senza direzione, per la vergogna a parlare di profitto mentre il mondo muore. La dipendenza patologica della ragione soggettiva è giunta al culmine del potere. Il disturbo mentale è ben poca cosa rispetto alle derive sociali e politiche che viviamo. Amare e lavorare è la sola deistituzionalizzazione possibile. Credo che questo sia il grande punto, cioè come tornare ad amare, ad amare il proprio lavoro, ad amare la vita, ad amare l'idea di costruire. Dobbiamo cambiare paradigma, un paradigma legato al profitto come scopo per condizione, direi, non per scelta, non per giustizia, per condizione, perché manca il personale, diceva Angelo Candido, e questa è la punta di un iceberg. Allora noi vediamo in questo strumento una suggestione, una provocazione e soprattutto uno strumento pratico per cominciare a cambiare il paradigma. Un patto di lavoro in cui si investe sulle persone, si decide di costruire una comunità che lavora e che accoglie. Ieri io, tra le altre cose, ho promosso con i miei amici dell'Opera Sociale, di Cometa, in cui lavoro, un bar dove lavorano dei ragazzi disabili, e dei ragazzi down, insomma, con disabili, e la persona che ho ospitato per una chiacchierata di lavoro, andando via, mi ha detto è straordinario questo luogo perché abbiamo bisogno, in questo mondo, dove continuamente si lotta, si sgomita, di un posto dove si può finalmente riposare. Potendo essere così come si è, senza dover dimostrare nulla, è straordinario il regalo che mi ha fatto oggi. Bene, l'albergo, l'ospitalità, ha questa dimensione, una dimensione di casa, una dimensione di famiglia, una dimensione di relazione. E non è solo il sistema delle PM italiane che ha questa grande potenzialità, proprio perché nasce da un'esperienza di famiglia, e nel nostro DNA, ma anche le grandi imprese, si stanno comodendo il problema di come ricreare un ambiente di tipo familiare. Perché l'ospitalità, il sentirsi a casa, è la necessità più grande dal punto di vista del marketing. Se non lo capiamo dal punto di vista culturale e dell'intelligenza sociale, lo potremmo capire almeno perché questo marketing ci riporta al profitto, se non vogliamo schiodarci da questo paradigma. Quindi questo tema della relazione e dell'investimento sulle persone diventa cruciale. Noi, come sistema ITS, abbiamo il desiderio di rilanciare, attraverso il PNRR, questa occasione straordinaria che il governo ci ha dato, di depubblicare l'investimento sul nostro sistema, abbiamo nei prossimi tre anni una grandissima sfida. La vogliamo affrontare insieme, perché il nostro compito è dare una prospettiva, è dare un futuro ai ragazzi lavorativo e lo possiamo costruire solo a partire dal rapporto con le imprese. È la necessità delle imprese che ci indica la strada, che ci permette di andare nella direzione giusta. Questo binomio tra giovani, abbiamo il 35% di disoccupazione giovanile, una follia, bruciamo delle generazioni, è la carenza di tecnici specializzati, cioè di persone capaci di interpretare questa trasformazione dal punto di vista del lavoro e, come diceva Righetti, amare e lavorare, l'unica deistituzionalizzazione possibile. Crediamo che con questo protocollo e la collaborazione che ormai è solida con Federal Berghie, con Adap, ovviamente, e ormai anche con Renaia, possa essere una squadra, diciamo, metaforicamente, calcisticamente, che può vincere lo Scudetto. Sono molto contento di poter condividere con voi questa opportunità. Mi spiace ancora di non essere lì con voi presente e magari mi riservo, se necessario, ma non voglio rubare tempo ai prossimi relatori, mi riservo di intervenire sull'apprendistato. Apprendistato che, dico solo questo, è una via italiana, l'apprendistato non può essere, non sarà mai una via tedesca. Noi abbiamo come riferimento culturale il famoso modello duale, ma ci sono cinque grandi condizioni differenti che rendono non paragonabile la struttura dell'apprendistato tedesco rispetto a quella italiana. Li ricordo brevemente, perché poi ho paura che non mi ridate la parola e quindi, visto che ancora sono in mezzo, a qualche minuto ce l'ho, la pubblica amministrazione ha una struttura decisamente diversa, anche la cultura della cosa pubblica, secondo tema, e da noi un po' ciò che è di tutti e di nessuno, in Germania hanno decisamente un'altra cultura. La pubblica amministrazione italiana è fortemente burocratica, poco orientata al principio di responsabilità, il sistema economico è un sistema di grandi imprese, e quello tedesco, il nostro è di piccole e medie imprese, quindi con una diversa capacità formativa. In questo senso Federalberghi svolge, come oggi dimostra, una funzione chiave nel supportare i processi di sviluppo di questo sistema, sviluppo culturale, sviluppo formativo, sviluppo degli strumenti e delle opportunità, e una cultura del lavoro decisamente diversa. In questo senso direi che la nostra è più legata a un'idea di costruzione, avendo una cultura un po' meno pragmatista di quella tedesca. E poi c'è un tema di riconoscimento sociale. Per noi la formazione professionale, il lavoro professionale, il lavoro tecnico, non è stimato come il maestro tedesco. Avere un titolo di maestro in Germania ha un riconoscimento sociale che oggi in Italia non ha. Questo ci deve interrogare su un processo lungo di cambiamento che non si risolve né con una legge né con un convegno, però sicuramente ci deve chiarire su qual è la direzione da prendere. ITS in questo interpretano una grandissima opportunità per aprire la pista del cambiamento. È un sistema integrato con le imprese, è un sistema flessibile, è un sistema che può diventare, che ha una capacità di innovazione anche didattica molto forte, proprio perché il 65% dei docenti viene dal mondo del lavoro e ha la possibilità, inoltre valutato e finanziato, sui risultati, anche questo è un meccanismo virtuoso che in Nesta tende all'efficacia, all'efficacia formativa e occupazionale e vorremmo, anche grazie alla partnership con Renaya e Federalberghi ha caldeggiato, ha auspicato e promosso, vorremmo dare un contributo all'intero sistema e all'intera filiera. Noi siamo pronti e speriamo di farlo insieme. Grazie ancora. Grazie mille, dottor Mele. Condivido tanto questo aspetto anche legato al sociale, al ruolo sociale che ognuno di noi svolge. Infatti, Presidente Valentini, quando un po' di anni fa eravamo a Ischia, il preside dell'alberghiero di Ischia ci disse noi svolgiamo un ruolo duplice, quello di istruire gli studenti, ma attuiamo anche l'articolo 3 della Costituzione, permettiamo loro di essere parte attiva della società. Tempo fa siamo stati con un gruppo di giovani albergatori a Israele, abbiamo incontrato l'ambasciatore italiano che ci ha detto sapete qual è la differenza tra noi due? che io giro per il mondo, voi accogliete il mondo. E per accogliere il mondo è importante forse quelle due cose che diceva il dottor Mele, no? Amare e amare il lavoro che si fa. Qual è allora per voi l'importanza di questo protocollo con noi, con Federal Berchi? E questo rapporto anche con gli ITS, certamente. Innanzitutto grazie dell'invito e soprattutto veramente un grande grazie alla costruzione di questa filiera formativa perché si tratta di una filiera formativa scuole alberghiere, ITS del turismo e Federal Berchi. cioè nasce la prima azione trasversale importante e fondamentale che ci può arricchire e nello stesso tempo orientare. Perché la formazione è l'anima è l'anima di tutto quello che poi potrà succedere. Difatti la nuova generazione deve essere formata ma per formare la nuova generazione bisogna che i formatori siano adeguati e che abbiano un accompagnamento la possibilità di avere un accompagnamento continuo e stare al passo con i tempi. Perché devono guardare avanti e nello stesso tempo indietro la formazione della nuova generazione che avanza ma lo sguardo deve sempre andare oltre, lontano. L'obiettivo è il mondo del lavoro e costruire un percorso adeguato che risponde alle richieste dei territori, del territorio per cui viene poi automaticamente creato questa osmosi, si alimenta da sola perché noi siamo qui spesso a criticare o comunque ad evidenziare queste grosse criticità. manca il personale, non riusciamo a soddisfare le richieste, ma noi non abbiamo la fabbrica del personale. Questo è il punto. Noi non fabbrichiamo personale, noi formiamo persone, menti. e allora il discorso è proprio lì. Chi intraprende questo percorso in età molto giovane, cioè gli adolescenti, devono essere avviati ad un approccio concreto, corretto, corretto, completo, che lo porti piano piano ad assaporare e a desiderare di andare avanti e di poter scegliere il proprio percorso all'interno del settore di cui noi tutti ci occupiamo perché siamo tutti nello stesso settore. E questo è il punto. Allora non si può segnare la strada obbligatoria perché con la società, qualsiasi tipo di società, ma quella attuale, è una società che vuole conoscere e magari già di suo, tecnologicamente parlando, è avanti con le conoscenze. Per cui il percorso che va creato nella formazione deve essere un percorso che permette uno il riconoscimento delle competenze dei ragazzi o comunque di chi si forma nel settore. Questo riconoscimento fino ad oggi è stato è stato disconosciuto nel senso che la scuola ha operato per conto proprio all'interno di un perimetro. Nell'altro perimetro c'era il mondo del lavoro e in mezzo c'era un grande vuoto. Questo è il vero, l'analisi corretta che dobbiamo fare. Allora, cosa succede? Riempire questo vuoto tra la formazione primordiale, la chiamo io, no? La formazione, diciamo, della statale, dello Stato, che poi non è solo dello Stato, comunque degli adolescenti, per accogliere e avvicinare nella maniera più corretta al mondo del lavoro. Ecco allora che io ribadisco l'accordo è fondamentale, l'apprendistato è una strategia diversa, diciamo, da tutte le altre che abbiamo praticato, che qualcuno, insomma, qualcuno già la pratica, però poi questa particolare caratteristica dell'apprendistato, la cui valenza gli vogliamo ancora dare, la vogliamo connotare, no? Per cui non lo vogliamo chiamare né tedesca né di un'altra cultura. E' tipicamente nostra, perché se andiamo un po' dietro col tempo, ma non eravamo ancora nati noi tutti, qualcuno, c'era l'avviamento al lavoro, no? C'erano le scuole di avviamento, magari qualcuno pensa, oddio no, parliamo di un qualcosa, no, parliamo di un qualcosa di italianissimo, di importantissimo, che ha costruito generazioni di artigiani, ha costruito generazioni di lavoratori che hanno, che sono stati un riferimento certo per l'economia del paese. Questo è successo 50 anni fa. Noi non è che dobbiamo ripercorrere questa situazione, ma con le nuove tecnologie, con l'evoluzione che comunque ci riguarda, perché è il nostro tempo, io penso che con l'apporto dell'ITS, del turismo, che è un riferimento anch'esso certo ed importante per noi scuole alberghiere, è con la voglia di federe alberghi, no? Delle strutture alberghiere, di ricevere, ma nello stesso tempo, di accompagnare la formazione. Cioè, le strutture, giustamente, si pongono in un'ottica diversa, di coprogettazione della formazione. Se riusciamo, io l'ho detto tante volte, lo ribadisco anche qua, se noi riusciamo ad essere inclusivi a 360 gradi, nel senso che togliamo i paletti dei nostri confini e quindi ci possiamo intersecare un pochino e invadere, in senso buono, il campo dell'altro, ma è la stessa area, perché è l'area del turismo, è il settore del turismo, che è l'area che ci interessa coltivare, uso questo termine, allora se noi impariamo a coltivare quest'area in maniera sinergica, in maniera costruttiva, in maniera di iniziare un nuovo percorso di progettazione, allora arriviamo, arriviamo a qualcosa che già esiste, ma che possiamo migliorare, per esempio sperimentare una certificazione delle competenze riconosciute dal mondo del lavoro, per cui lì poi viene proprio il riconoscimento delle competenze reali di chi ha frequentato un percorso formativo che inizia con la scuola, diciamo, dell'obbligo, per continuare nell'ITS e per sfociare nel mondo del lavoro nella maniera migliore possibile, cioè che va direttamente a soddisfare quelle esigenze richieste, richieste dal territorio. Io mi fermerei qui, potrei andare anche, cioè vedo che il tempo è tiranno, vorrei lasciare, no? Un po' di spazio agli altri. Grazie, Presidente. Ha detto delle cose importantissime. Poco prima abbiamo partecipato ad un panel in cui si diceva prima che pensare come attrarre talenti, innanzitutto non facciamo scappare via quelli che abbiamo, ma poi immaginiamo anche di imbaccarne di nuovi, no? E quindi il rapporto con con Renaglia e con gli ITS e l'apprendistato che è un semplice, per quanto importante, strumento serve proprio a quello, per costruire i talenti del futuro. Senta, io ho una penna che è quella dell'albergo del nostro Presidente, del Presidente Bocca, il Sina Hotel, che secondo me è quella giusta per firmare il nostro protocollo. Noi abbiamo portato due copie e se lei vuole possiamo anche fermarci, diciamo, immediatamente dopo a siglare il nostro protocollo. In chiusura, mancano poco più di otto minuti, visto che abbiamo il direttore Alessandro Lucara, direttore di Federalberghi, nonché presidente anche dell'ente bilaterale nazionale del turismo, se vuole darci un suo contributo, un suo saluto, ne saremmo felici. Grazie, Andrea. Buonasera. Siamo fra amici. Questo tema di come far crescere il rapporto fra scuola e impresa è un tema che ci appassiona e ci viene impegnati da molti anni. La firma odierna del protocollo è una tappa importante che è figlia di un percorso che viene da lontano. Abbiamo sentito oggi in vari panel di BTO, ma durante tutti i mesi che ci hanno preceduto, una notevole attenzione al tema della difficoltà di trovare personale qualificato. e da questo punto di vista noi viviamo sempre con disappunto la circostanza che si sia perso un po' il valore del lavoro nel settore. la capacità di attrarre i giovani di essere appetibili di attrarre le loro famiglie si diceva prima col preside un ragazzino a 13 anni non sempre sceglie da solo il proprio percorso scolastico e diceva il preside quanto è importante che siano le istituzioni in cui viene accolto la scuola nel caso di specie a trasmettergli questa passione e di rimando in accoppiata quanto è importante che le imprese nel momento in cui accolgono i ragazzi sappiano coltivarla farla crescere Andrea ricordava il mio ruolo insieme all'ente bilaterale mi piace dirvi che anche le parti sociali quindi le parti stipulanti del contratto collettivo nazionale di lavoro stanno lavorando su un percorso di questo genere per rendere le qualifiche professionali meglio comprensibili quelle in azienda le mansioni i ruoli più facilmente comprensibili ai giovani per dare un bollino blu a quei giovani un badge dicono quelli che parlano bene a quei giovani che più si impegnano nei percorsi di aggiornamento professionale prima dell'impiego ma anche durante l'impiego perché non si smette mai di imparare non si deve smettere mai di studiare di aggiornarsi e ultimo ma non meno importante fare interpretare fare vedere fare intravedere un percorso di carriera in modo che chi si avvicina al lavoro nel settore abbia una consapevolezza non solo di quello che va a fare oggi ma di quello che potrebbe essere la sua crescita professionale negli anni a venire questo significa offrire prospettive significa avvicinare significa incoraggiare significa in qualche modo rispondere a una parte importante del problema che come dicevo c'è quest'anno più che negli anni precedenti reso la vita molto molto complicata al punto che alcune imprese hanno dovuto addirittura rinunciare a derogare dei servizi perché non avevano lo staff dimensionato a sufficienza grazie al dottor Nucara io allora vi inviterei alla firma del del protocollo diamo una una copia al presidente Valentini ecco la penna del presidente Bocca qui Alessandro direi che questa è la firmi tu io faccio anche il balletto eh oltre al moderatore bene prego e poi con il dottor Mele appena possibile esigleremo il protocollo di intesa anche con con gli ITS nella speranza davvero noi ovviamente lavoreremo in tal senso che l'apprendistato diventi uno strumento importante di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro già a partire da quando sono nelle scuole prego la tele è un gentile omaggio del presidente Bocca eh vi ringrazio buon proseguimento tutto